Carlo D'Azaro Biondo, quanto conta internet per la crescita dell'Italia e che contributo può dare? Conta molto e conta sempre di più e conterà sempre di più. Abbiamo notato, oggi internet in Italia rappresenta, se contiamo l'attività diretta, circa il 2-2,5% del PIL. L'e-commerce genera impieghi per decine di migliaia di impieghi ogni anno e continua a crescere. L'e-commerce è anche il primo sostegno all'export per l'Italia, che è una delle prime fonti di crescita che possiamo avere. Abbiamo presentato a Capri uno studio che abbiamo fatto sul Made in Italy e i settori di valore o percepiti come tale, dove l'Italia può avere un vantaggio competitivo all'estero, indicando che i principali settori che hanno questa caratteristica sono l'agroalimentare, il turismo, la macchina utensile, la moda, in certi aspetti l'automotive. E vorremmo proporre che ci cercassi in Italia di favorire questi comparti industriali per essere protagonisti della globalizzazione che stiamo vivendo in modo vincente, cioè portando avanti le nostre qualità. Quando ero ragazzo, avevo 18 anni, mi dicevo che faccio l'ingegnere o no, non sono un grande matematico, faccio qualcos'altro. L'Italia ha alcuni settori che nel mondo sono percepiti come vincenti e su cui c'è una forte domanda. Se li favorissimo potremmo essere protagonisti della globalizzazione in modo molto più vantaggioso per il paese che cercano di essere un po' tutto per tutti. Lei sono anni che predica con forza l'importanza dell'e-commerce, l'importanza del commercio, della possibilità di aprirsi verso l'esterno. Tra l'anno scorso e quest'anno è cambiato qualche cosa? Enorme progresso. È l'anno in cui abbiamo visto da Google, e penso l'abbiamo visto nel paese, anche con iniziative tipo quella che fa adesso Carta Sì, quella che faranno Poste, l'arrivo di Amazon. È l'anno in cui l'e-commerce ha cominciato veramente a crescere in Italia, diventando significativo. E devo dirle per esperienza, lavorando in molti paesi in questo settore, che l'anno in cui si vede e si sente l'attività e-commerce prendere importanza, è seguito poi da anni in cui l'internet continua a prendere importanza, le piccole e medie imprese si sviluppano meglio. Quindi io quest'anno, tre anni fa, ero pessimista dicendo che l'Italia prende ritardo. Quest'anno sono ottimista perché vedo crescita di e-commerce, consapevolezza dei grandi attori italiani che cominciano a investire molto, volontà dell'Etelco di essere molto più collaborativa con chi fa attività di servizi di come ne ho visto in passato, è un decreto appena uscito dal governo che forse pone le basi per una vera volontà di crescita. Insomma abbiamo speranza. Ma io penso sì, se lei si ricorda, c'è una bellissima frase sul rinascimento, che dice che il rinascimento fu questione di temperamento, all'epoca c'erano guerre di religione, disarti eccetera, l'Italia manco era unita, si stavano unendo gli altri paesi, scoprirà l'America, eppure l'Italia crebbe e deve un periodo che dal punto di vista culturale è oggi considerato come straordinario. Le condizioni ci sono tutte, vediamo adesso una enorme accelerazione dell'utilizzo dell'internet in Italia, le istituzioni lo capiscono, lo spingono, i telco lo vogliono e quindi credo che tutti insieme si potrà fare qualcosa di utile per il paese. Grazie. Grazie a lei.